Ciao a tutti, oggi vi parlo di una novità letteraria che è un po' sia un consiglio di lettura che un libro che ci porta a riflessioni, ma è soprattutto un libro trasgri, ebbene sì. E sto parlando di Future Sex, di Emily Witt, edito Minimum Facts, è uscito proprio in questo mese. Il libro me lo sono procurato, se avete visto il video sul salone lo sapete, al salone di Torino. E' stato uno dei miei acquisti, perché mi ha incuriosito subito, in quanto a primo impatto sembrava un saggio, anche se all'inizio non era chiaro se fosse un saggio o un romanzo, però qui saggistica doveva aiutarmi, diciamo. Però l'idea che mi ero fatta era quella di un saggio che cercasse di indagare lo spettro della sessualità nell'epoca di internet e quindi puntando molto sullo studio legato agli incontri online o ai social network e via dicendo. In realtà è un libro molto più complesso, di cui finalmente ho terminato la lettura. È stata una lettura molto interessante, che non mi ha sempre entusiasmato, perché certi argomenti naturalmente erano più interessanti, altri di meno, però diciamo che è un bel excursus generale fatto bene. La scrittura di Emily Witt è molto agile, poi. Per quanto non stratti mai gli argomenti con superficialità, ma che anzi tenda ad approfondirli, lei riesce a trovare quel linguaggio semplice, diretto, capace di coinvolgere qualsiasi tipo di lettore. Quindi se avete poca affinità con i saggi, magari per la scrittura, diciamo, se volete puntare su un saggio, su un saggio per iniziare a leggere appunto saggistica e vi interessa l'argomento, questo può essere un ottimo appiglio. In realtà il libro parte proponendo un'indagine legata agli incontri online, parlando di siti che vanno per la maggiore negli Stati Uniti, che possono essere coevi, più che coevi, più surrogati, diciamo, di Badoo, no? In Italia so che va Badoo, però in America ci sono OkCupid, Tinder, ovviamente, e nomine a questi, con tutto ciò che ne consegue. Questo è il primo capitolo, ma pian piano Emily Witt decide di affrontare molte altre sfere del sesso contemporaneo, partendo dalla fruizione di materiale hard, della fruizione video, ma anche della realizzazione video. Infatti ci sono incontri con registi, attori, attrici e un background dietro. Ci sono anche le feste dell'amore libero, in questi festival dell'amore libero c'è anche l'indagine legata al poliamore, no? Quindi pian piano che si procede nella lettura, in realtà si scopre che questo saggio non è altro che una panoramica, pressoché infinita, dell'evoluzione dell'amore nella nostra contemporaneità. E per quanto mi aspettassi, in realtà io mi aspettavo, come lettura, un approccio molto sfacciato, molto liberatorio. Ma in verità questo saggio, che comunque affronta le infinite possibilità dell'amore oggi, tant'è che in realtà il saggio ruota proprio attorno al concetto di cosa sia amore oggi e se necessariamente è un amore identico o diverso a quello che si viveva 200 anni fa, no? Con il matrimonio e basta, no? Invece ora viviamo in una contemporaneità in cui sono disponibili infinite rappresentazioni d'amore o di concezioni del vivere l'amore, no? Si fa riferimento a chi è ancora una persona che punta dal matrimonio oppure chi non vuole assolutamente essere fidanzato e si libera in più avventure sessuali e chi ancora invece vuole essere poligamo, diciamo, per certi aspetti, no? Quindi, oppure vive relazioni in tre, in quattro persone, no? Oppure c'è chi preferisce rimanere da solo, vivere delle fantasie e quindi in tutta questa infinita di modi di amare dovrebbe essere più naturale il raggiungimento della felicità personale. Ci sono tantissime scelte ma allo stesso tempo Emily Witt racconta il tutto con una leggera malinconia di fondo, no? Come se comunque fosse ancora necessario considerare determinate cose, no? Quindi la società avanza, l'amore avanza, l'essere umano è disperso, no? Perché è ancora incapace di capire realmente di per sé che cosa sia l'amore e relazionarsi con gli altri. E dico malinconia perché comunque il saggio si focalizza molto sul fatto che per quanto sia sfacciato non nella prosa perché dopo vi dico come è scritto ma nella rappresentazione, negli incontri che la giornalista, l'autrice fa è sfacciato proprio nel presentare tanto erotismo anche a livello proprio volgare, no? In realtà gli incontri effettivi erotici quasi mai avvengono realmente o quantomeno sono spesso delle ipotesi dell'incontro delle simulazioni di incontri come ad esempio sul set di un film oppure in un corso di meditazione dell'orgasmo c'è anche, si parla anche di quello quindi o l'incontro avviene a livello ipotetico oppure l'incontro viene messo in scena viene simulato e non vi è una reale rappresentazione dell'intimità, no? E quindi per quanto non ci sia una chiusura vera in questo saggio una soluzione vera che poi dove si punta è appunto il fatto che l'amore l'idea di amore fisico e amore spirituale nel tempo sempre progredisce sempre di più avrà migliaia di sfaccettature ulteriori di modi di concepirlo perché l'essere umano sostanzialmente si chiede sempre l'origine, la natura delle proprie interazioni, no? Sia quelle importanti a livello profondo che quelle puramente istintuali, no? Ma è proprio questo il punto che l'attrazione fisica è istintuale ma in questo saggio davanti appunto alle infinite rappresentazioni dell'istinto sembra come se questa cosa automatica sia qualcosa di molto più complesso cosa che effettivamente è e che porta a un disorientamento proprio perché non vi sono delle soluzioni ed è giusto così perché non ci devono essere delle soluzioni razionali certe volte sul metodo di interazione a volte è importante interagire però è una grande epoca di smarrimento secondo me da questo punto di vista di interazioni umane di incommunicabilità alienazione ed è come se attraverso i mezzi di comunicazione che ora tutti noi abbiamo si cerchino dei nuovi modi di manifestare amore proprio perché per superire a questo senso di smarrimento e il saggio è appunto scritto in questo modo nel senso che Emily Witt scrive in prima persona quindi proprio a livello giornalistico ma a volte anche a livello proprio romanzato scrive in prima persona le sue esperienze con le persone che incontra che fanno determinate cose oppure ne parla proprio sulla sua pelle se lei ha fatto determinate cose come ad esempio l'iscrizione su Tinder e le sue esperienze però ha sempre questa voce molto insicura come se si addentrasse in un luogo che lei è incapace di comprendere lei si sente così si sente un po' un'estranea una diversa e quindi si percepisce una certa malinconia che mi ha lasciato passare il fatto che tutti noi siamo connessi a livello tecnologico ci sono più possibilità di comunicazione ma allo stesso tempo siamo dei microcosmi ed è molto difficile riuscire a connetterci anche nella vita reale siamo sempre dei microcosmi alienati gli uni dagli altri dove è difficile veramente difficile quindi io leggendo questo saggio ho avuto tantissimi spunti di riflessione che tuttora continuano ma io quando vi parlo di un libro mi piace leggere parlarne quando l'ho terminato per parlarvene a caldo proprio così random free in definitiva è una lettura che vi consiglio perché è scritto bene è molto interessante e lascia tanti tanti spunti di riflessione quindi fatemi sapere se l'avete letto se non l'avete letto lo leggereste? non lo leggereste? fatemi sapere io vi aspetto a un prossimo video vi mando un bacione e alla prossima ciao ciao